Allora ragazzi, siamo qui a piazza Duomo a Catania e io aspettava a Sando con Francesca Farina. Allora, a Sando mi arrivavo, non mi arrivavo Francesca Farina, o meglio, mi è arrivata un'altra versione della farina. Siete pronti? Pronti perché è una cosa, no vabbè, pronti? Amo! Amo! No, noi aspettavamo a Sando e Francesca Farina, giusto? Francesca Farina, giusto? E anche, ovviamente, lei dalla risata ormai famosa, suo marito. Allora, Sando è cà, a Farina stai nel ciccario, perché io me la ricordo nera. Vediamo, 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 vediamo. Ma non puoi, ma sei la, prego, prego, ma sei Francesca Farina? No, io alla 6 in iura ieri, Rizza. Ma c'è, 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 c'è. Ah, un su, un su, un su. Senti, vuoi fare... Perché a casa mia ci sono i topi che giocano a pallone. Sì, i topi che giocano a pallone. Ma scenda, se io mi sono pulizzitata. Sulla tuo caso. No, ma se io voglio che i topi giocano a pallone, a lei c'è la? Ho scelto, ho scelto. Ma senti, oggi sei andata al mare? Perché hai i capelli abbronzati? Ma tutti, ma tutti stanno bruciando. no vabbè ragazzi guarda no santo tu i capiggi no va bene a dopo a dopo